Oddio che male! Io volevo registrare un video vlog con gli altri Però il problema è che faccio tutti i vlog sempre in camera mia Quindi ho detto perché non farlo in camera di Surrey Per convincerlo avrò bisogno della bandana Magari non sugli occhi, un po' più su Ma che caspita sono la badante di Tom e Jerry Registriamo? Tu d'ora detto di sì Non qui In camera tua? Dai, dai, dai Non voglio fare tutti i vlog in camera mia Digli qualcosa Ma è una versione di fotografia Surrey dai C'ha ragione Lavora per il cipe ma lui In camera mia non si può Allora giuro Ascoltatemi, giuro che non si sporca niente Solo per una questione di video, lo giuro Ma lo sto giurando in video Non mi piace c'è l'audio cattivissimo E dietro è bianco Qui è colorato Eh è colorato Faccio 15 minuti e finisce Troppo tempo Bye First lady le piace l'addobbamento It's not bad The first lady ha scorreggiato Stessi chiedendo what is this fucking puzza It's because the first lady ha scorreggiato The first lady caga i mattoni Fa in culo No cazzo gli occhiali No respiro sta roba zì Ah la cera cazzo No 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 Che figo Dora in po' questa è la location dei video horror fino al Natale Ok Ci stai? Ci sto Forse mi piace la luce E me sa di sì Tanti auguri a te Magia Ok Guardami con tutta la cera sul dito cazzo Ciao Non ho trovato le forbici quindi questo dalla punta rotondata andrebbe Suo Benvenuti Qui Stefni e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale Siamo tornati con qualcosa di molto particolare Oltre alla location Oggi vedrete un video molto strano Perché cercando sul web a volte ti capitano sotto mano delle cose abbastanza particolari No? Converrai con me in questa cosa? Sì Di tutto e di più La cosa più assurda che ti potrebbe capitare è di poter comprare E di poterla farla vedere perché non è illegale ecco Ve lo chiedi a me eh? Ho comprato un gatto Me lo sono fatto spedire direttamente al Giacomo Sto facendo due mesi C'è scritto Perishabalfood infatti E se rovina se me lo mani subito Lo posso tagliare secondo te Ma sono le schifezze giapponesi? No non sono schifezze È roba buona Saranno schifezze Mi vuoi spiegare almeno come si chiamerà questo video? Sembra di tagliare non lo so un cocomero Speriamo di non tagliarsi un dito Ok? Chiudi gli occhi tu tu coglione Facciamo una bella incisione qua Sul ginocchio Dovrebbe essere più che sufficiente Tutor non sa che cosa andremo a fare oggi Ma in realtà non lo so neanche io Ho comprato queste cose Ho detto vabbè Un giorno ci faremo un video Sono là da tre mesi Da prima che partissimo per le vacanze estive Quindi probabilmente saranno tossiche E ci faranno male Dai Tu non guardare eh Ho ragione o no? Tu non guardare Ho ragione o no? No no non devi ragione Hai zerato dovevo dormire C'ho anche la fattura Più di 100 euro Quanto? Voi state vedendo cosa sto tirando fuori dalla scatola Sono cose particolarmente interessanti No Stefano Cose molto interessanti come potete vedere Ma che cazzo Credo che deve essere la blindfold challenge questa Ma che cazzo mi hanno venduto? Io gli ho chiesto un chilo di cocaina e me l'hanno sciolta nell'acqua per farla passare alla dogana Mettila in freezer Mettila in freezer Per ultimo ma non per questo meno importante Anzi Il contrario La cosa più importante è questa Posso prendere gli occhi? No Un secondo Che avanza Forte che si cresce anche l'acqua Ma non era più figo se l'ho più buio? Il tuo video è più chiuso E lo mangiavi con gli occhi chiusi? A scemo Te fidi? Ci ho provato Vado a prendere l'ultima cosa eh Non fregare di quello che diventi Che video cuoioi? Ok ci siamo Tutto è pronto Allora Prendi questo in mano Prendi in mano questo No Non è niente di che No È piccita Non è niente di che Puoi aprirli Puoi aprirli Puoi aprirli i occhi È la birra Cazzo Ok Praticamente facciamo un gioco Io la apro Tu devi riuscire a berla In 30 secondi precisi Non c'ho sete Eh beh che se frega Devi farlo lo stesso Ma non si beve ragazzi Vieni a guidare Ma non devi a guidare niente Aprila tu Vediamo se è capace Ma c'è nessuna cosa lì dentro No Questa non è bella birra È birra L'ho presa in frigo Perché dovrei bere la tutta quanta E tu che cazzo bevi Ho bevi la birra Poi ti faccio vedere Ma non mi fido Oh mio dio Che figata È buonissimo Surry Vieni ad assaggiarlo No Non è che assaggiarlo Devi berlo tu Vieni a prenderlo da solo Non ti posso dare il cavatappi Ma non è un cavatappi quello Sì che è un cavatappi Come cazzo l'apro La mia coltella No Eh Chiudì No Questo Questo è la cangina della leggenda Pezzo di storia Tienemela un po Eccoci Chi si farà male fra i due Nei prossimi presseco No ti sei scemo No zio ci facciamo male entrambi Ma figurati Mi sono già tagliato Ti riporto Aprire la birra Con un lavandino Miscio il complito Ok quindi questo non ti serve più Bevi la la goccia Miscio il sangue Davvero Sì Adesso parte il timer In 30 secondi Devi averla finita tutta Ok Se ci riesce Ingenio Oh mio dio Beccati queste le collo Scemo Che cosa sta succedendo Stefano Tutta questa cazzo di storia E di ansia Per della cioccolata A forma di forbici Sti cazzo Anche quella a forma di Tavatappi Ma non la sprecare allora E' pure buona In realtà si Penso che sarai 4 mesi Ti stai cagato Un po' addosso Ma non mi sono Le porte Sì Pensavi che ti volessi Uccidere in video No pensavo fosse tipo Una cosa strana Che prendesse la scossa Sapete raga Io sto andando a letto E mi chiamo mi fa Tu dove sei a letto già Dico No però mi sto cambiando Vieni in salotto Trovo su questa barata E mi ritrovo a mettere Della cioccolata fondente Allora A forma di forbici Ho comprato Della cioccolata Su internet A forma di oggetti Puoi farci gli scherzi O puoi semplicemente Mangiartela Anche se è una cosa Un po' inusuale Da fare Questo è un ferro di cavallo Questa è una pinza Da giardino Però è veramente buona E' proprio buona Tu ti stai mangiando Ah ancora le forbici Guarda che il cavatappi Secondo me è più buona E' più buona Sono uguali No più buona Prova Sono uguali Non sono uguali Non è vero Surri Dove vai? Chiamo Surri Volevo distrarti con la birra Così mentre bevi la birra Vedemi che prendevo le forbici E ti cagavi addosso Non c'è niente da dentro Qua dietro semmai Vabbè da dentro Cos'è la cosa che non avresti mai immaginato di mangiare nella tua vita Un cazzo No A parte quello magari Oh mio dio che schifo Grazie per i femmini femmini che se ne va Che ne so Un verbo Passiamo al livello successivo di cose che non potresti mangiare Che non sono animali insetti Ma oggetti Utensili Una forchetta Pecino Ma non abbastanza Pecino Pecino Non abbastanza Una spatola Cose che non usi per mangiare di solito La spatola non la usi Non l'uso per Eeeh 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 Abre un po' la bocca Salvatore Ma te si Metti questo dentro E' scaduto a sta roba E' buonissima Abbiamo appena mangiato un paio di forbici Noi Don Bosso Abbiamo mangiato tutte le forbici Eeeh 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 Io ci facciamo a tappi Questo video si chiamerà coinquilini versus food Tu hai speso 100 euro 102 euro 130 euro 130 euro 130 Martin Garrix E' vero Le due pezzi Dammi soldi tu gli occhi Noi Noi Coglione Stai con una spezzata la forbice Mi ho fatto qui nel colo con la forbice Si è spagnata Chiunque può mangiare Come lo so A me la bocca Un pezzo di carne di cavallo Tocca a tu No No Chi gli occhi sorri No Sì Chi gli occhi Che è quella di cioccolato Ah sì Dopo quello che è successo C'è non ci ha mangiato video Quello della casa E' un mirato E' tipo un tosso questo qua Gio assaggio E' buonissimo E' fare veramente a botta così E' beccati la pistola C'ho coltello Ma che cazzo Ecco perché 130 euro Raga sto coso 40 euro Ehi Una pistola di cioccolata E ne fai mettate altre cioccolate Se ci pensi Senti quanto pesa Saranno almeno Sì sto coso Ma questo è un pelapatate Pela patate Delle cesoie Perdi acqua Che cazzo Perdi acqua Perdi acqua Fai vedere i dettagli Fai vedere i dettagli Perché c'è anche la vernice sopra Hanno utilizzato il colorante alimentare Per fare l'impugnatura I bulloni E' scaduta Ed è strascaduta No Che beccato che cacchio Della pistola Non c'ho bisogno del caricatore Ma zio abbiamo delle cesoie Vieni qua Ehi L'ho mangiata appunto però Sono di cioccolato Sì La cesoia Se ne è andata Che forte Fai male zio Fai male Oh Cogliato Oh Zio che male Oh Zio che male Lo stai continuamente fuori Io zio Sto per lo sciacolo del po' Ma ragazzi Ma questo domani Si sveglia Con un libido grosso Così in faccia Non è bisogno Della microartita Con sto coso viola in faccia Oh no Mi sono fatto malissimo Non pensavo se è così dura Zio questa spacca un vetro Se un attivino Porca droga Cioè dammi qualcosa A spaccare E avevo detto che non serviva il caricatore Ti ho detto che non si rompeva Oh Usa una testa No mi sono bloccato in giro Oh ma sei scemo Coglione Ci siamo riusciti Ma sei scemo Si fa un trono di nuovi poi Fata si è aperta Avevano fatto anche il tappo al cavacato Scusa Vediamo se si spacca Uoooo E ciò No Perciò t'acca No No Sei rincoglionito Ascolta La cioccolata fa male Ecco perché ce lo dicono sempre i nostri genitori Questo video termina qua Come no Che c'hai? Che cosa vuoi farmi vedere? Hai preso solo questa roba Hai preso? Porca droga Il lavandino Il lavandino non è di cioccolato No Il lavandino Allora verrà un vernocculo enorme, io ve lo dico Allora aspettiamo per la post clip fine video Finito il video con Sur e adesso inizia quello con Tudor Da un'altra parte ho delle altre cioccolate da farvi vedere Ma non è finito, sto scherzando Da mangiare vi giuro che è buono, però Annusalo, senti quanto puzza Secondo me la vernice che puzza Ma che ver... non può esserci la vernice, è colorante alimentare Colorante alimentare, ok, è quello che puzza secondo me Si è chiuso la chiave Ripensandoci bene, visto che abbiamo sporcato tutto il pavimento e il divano Forse Sur e aveva ragione a non farci registrare in camera sua Forse sì Che video è? No, 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 te sei scemo Ho vinto, che hai vinto? Cari amici, questo video di oggi termina qua Non so neanche se reputarlo un video È casino, casino Niente di più, niente di meno Questo qua è il risultato della cioccolata, un giorno magari la scioglieremo Per farci altre costruzioni Questo è quello che ha avanzato, lo sciogliamo Ci facciamo un lavandino We hope you like this video, if you enjoyed too much, leave a like Comment, subscribe And we'll see you soon in a prossimo video Bye Yes, Ibi, yeah Non vedo della fotocamera Pulisci tu qua, eh No, Shuri, non facciamo cascino Non tocchiamo neanche il tuo letto Che facciamo il video Guarda qua Che che mette adesso a posto il divano Lo stendino L'albero di Natale E tutte le cose Ehi Ci pensa a Wilson A fanculo, Wilson Tu prendi e cacciai Wilson Che cazzo Ti affazzo, scemo Cazzo lo lascio da solo allora, Wilson Andiamo ora un po' il cazzo a Surry Ma sta dormendo Cosa sta dormendo? Cosa? Cazzo di pervento, Surry